I carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno individuato e denunciato per danneggiamento otto minori. I ragazzi sono ritenuti responsabili del danneggiamento, nella serata del 5 marzo scorso, del pannello posto all'esterno della fondazione Polis, in ricordo di Giancarlo Siani, colpendolo ripetutamente con un pallone. I minori, non imputabili perché di età inferiore ai 14 anni, sono tutti residenti nelle vicinanze del luogo dove è stato effettuato il danneggiamento e si sono presentati alla caserma Pastringo accompagnati dalle rispettive mamme. Hanno riferito di non conoscere il significato del pannello danneggiato e si sono mostrati rammaricati e pronti a risarcire il danno causato. I carabinieri del comando provinciale di Napoli, d'intesa con la procura per i minorenni di Napoli, li ha quindi segnalati al predetto ufficio. Verrà organizzato in accordo con la fondazione Polis e con le famiglie dei ragazzi che si sono dimostrate ampiamente collaborative, un incontro con i ragazzi nella sede della fondazione per approfondire le importanti tematiche di cui si occupa e per fargli conoscere l'importanza della figura di Giancarlo Siani e di ciò che rappresenta.